Assolutamente la cosa principale è un ritocco delle bollette. Il ritocco che loro hanno fatto con il decreto sostegno di terra e con il prossimo scostamento di bilancio va a toccare gli oneri di sistema che però incidono per meno del 10% sulla bolletta effettiva. Quindi noi andremo a chiedere un'ageolazione sull'iva delle bollette. La priorità è dettata dalla contingenza, ma nella lettera che Veneto Imprese Unite in procinto di inviare ai prefetti del territorio si parla anche di abbattimento del costo del lavoro e di nuovi parametri per il credito d'imposta dedicato agli affitti. Il confronto sarà allargato anche a politica e istituzioni. La stessa lettera con le stesse istanze verrà presentata anche alla giunta regionale e sarebbe un piacere per noi poterla presentare anche ai senatori e deputati del Veneto. Richieste ancora più pressanti dopo un San Valentino Amaro. Da un veloce sondaggio su un campione di 350 attività è emerso un quadro sconfortante. Quasi il 40% dei ristoranti di Vicenza, Treviso, Belluno e Venezia, i nostri associati, hanno deciso di stare chiusi perché comunque non avevano ricevuto nessuna prenotazione per San Valentino. Un altro 20% circa ha deciso comunque di aprire, nonostante non ci fossero prenotazioni, però alla fine si sono ridotti a fare 6-8 coperti. Di sicuro non bastano, soprattutto la luce degli aumenti delle bollette e delle materie a prima. Non è andata meglio a fioristi e gioiellieri, per oltre la metà il mercato è rimasto fermo. Serve quindi, dice Veneto Imprese Unite, un nuovo patto con i comuni per riportare le persone nei centri e promuovere il commercio di vicinato, magari rivedendo le tariffe dei parcheggi e programmando iniziative permanenti. Non destinare per eventi spot quei pochi fondi che hanno, perché altrimenti portano sì turismo, ma turismo che va a fare le foto, che fa una passeggiata, ma che difficilmente poi consuma le nostre attività.